che insieme al fantoccio bruci anche il virus. Questo l'augurio dei ristoratori di Gallarate che nel giorno della Giobbia, festa popolare particolarmente sentita nel Varesotto, uniscono forze e voglia di fare e si mettono al servizio della comunità. Ognuno di noi, spiegano, offrirà dei prelibati piatti di risotto con la Luganega, rigorosamente da sporto, a chi vorrà rispettare la tradizione e festeggiare in famiglia, malgrado il Covid. È una cosa che ci viene dal cuore, è una cosa che noi sentiamo e vogliamo stare vicino anche alle persone che amano le loro tradizioni, perché queste persone non devono avere questo giorno di Giobbia che buciano la vecchia, che c'è il risotto, cioè stiamo togliendo tutto e tutte ragazzi, le palestre, le discoteche, stiamo togliendo tutti, quindi noi ci siamo. Il nostro vuole essere un messaggio di speranza, ma anche un grido di dolore. Non possiamo più andare avanti così, abbiamo bisogno di lavorare. Noi abbiamo sempre lavorato in modo onesto e con criterio. Ci mancano i nostri clienti, ci manca la nostra vita, ci manca tutto. Vogliamo tornare a essere normali, come lo siamo sempre stati, con civiltà, con rispetto delle regole, con tutto quello che abbiamo. Che noi rispettiamo le regole, non siamo dei malviventi. Ci sono tanti locali che possono lavorare in sicurezza assolutamente, avendo più sale, il mio a tre sale divise, perciò io potrei dimezzare i clienti per ogni sala e a quel punto potremo riaprire con tutte le sicurezze. E' giusto che chi in caso riaprisse e in modo sbagliato poi venga sanzionato o lo si faccia chiudere. però non ci stiamo più che perché non riescono loro a controllare gli assembramenti, come dicono così, all'uscita dai locali, noi dobbiamo rimetterci ed è praticamente un anno che non stiamo lavorando e a questo punto non stiamo vedendo neanche niente se non qualche bricciola di ristoro. Io ho sempre solo chiesto che mi diano i soldi, se mi costringono a tenere chiuso, mi diano i soldi per pagare l'affitto e per pagare le utenze, perché così riesco a tenere vivo il mio locale, fino a che riusciremo magari con l'Agebia a bruciare anche questo virus che oramai ci tormenta da un anno e più. A partecipare all'iniziativa sono i ristoranti La Goletta, Tapposporta, La Maison d'André, Boccondivino, La Ruota, La Grotta Azzurra, House Garden, Norcinarte, Gravity e Life Coffee & Bakery.